Brasciolone, braggione, polpettone, agnellone, rivoltiti, la saggezza, la mortadella, le uova, le seto, pepe, sadella. Tutto a base di frutti di mare, poli, piaglievi, frutti di mare e quant'altro, insomma, crostaci, scampi, gamberoni, scampi eroni, crostaci eroni e pesci eroni. Questo è il ferragosto dei baresi. Primo? Primi piatti, dalla fettuccina con gli scampi o all'asti, scampi, naturalmente, oppure di pari con della pescatrice. Infine c'è chi apprezza un po' tutto, dalla parmigiana alle orecchiette. Lascio il colore a chie, chie. Ma non sarà un po' troppo? No, questa è la pritì. Poi, verso mezzanotte, per digerire qualche pizza gigante. Gigante, 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 gigante. Poi, verso mezzanotte, per digerire qualche pizza gigante. Poi, verso mezzanotte, per digerire qualche pizza gigante.